Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati qui in questo mio nuovo video. Buona vigilia di Natale a tutti quanti, quindi spero che stiate passando delle belle vacanze per il momento assieme a tutti i vostri cari, quindi io direi di non perdere altro tempo e di iniziare in questo nuovo video. Di cosa si tratta? Siamo a tema calcio, quindi quando i giocatori perdono il controllo e quindi potrebbe scattare qualche rissa, cose che mi piacciono tanto, quindi iniziamo perché sennò viene un video di 6 ore e giustamente uno si rompe le scatole. Ultima cosa soltanto, vi ricordo di lasciare un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. Arriviamo a 50 iscritti entro la fine dell'anno, se no vi vengo a cercare e vi picchio con questo per il naso e il telecomando che è sempre qui presente con noi. Quindi ci vediamo fra un pochissimo dentro il video. molto probabilmente la canzone sotto ve la... Attenzione con la rissa 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 tra Brasile e Argentina. Molto probabilmente la musica sotto ve la toglierò e vi metterò io qualcosa perché mi darà sicuramente copyright. Wow! Megarissa, Liverpool, City... E' un fallaggio sul salato di Bernardo Silva. Bernardo Silva contro Van Dijk. Ma un giallo per Bernardo Silva, così è dico. Un gialletto rosso per Klopp. Attenzione eh! Emerson Palmieri contro Frederic. Minchia! L'ha ucciso! Marta! Un mancamento a un certo punto dopo. Sì! Rissa rissa rissa! Sì! Mani addosso dai! Madonna mia come si stanno picchiando! Siamo in Spagna giallo giallo! Sì! Ammunisci anche a me a questo punto se vuoi. Cosa sta facendo Mount qua con Martinez? Eriksen si ha preso la palla e ha detto io voglio solo cancellare la punizione niente altro. La Madowska? Sono sempre in Premier League praticamente. Giustamente. Madonna mia. Stanno un bacino questi? Non so. Madonna. Scusate se ho guardato un attimo di Lamma si era acceso alla televisione per quello non vi ho guardate. Cansello Macedoni. Scusate pubblicità solito. Attenzione eh! Eeeh! Mancamento. Eeeh! Che sceneggiate! Madonna! Questo me la ricordo! madonna! Nemmeno ha preso il volo! L'ottamente è morto! Un medico! Madonna mia! Questo è quello che mi piace! Le rissa! Le rissa! Sì! 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 Accoltellatevi! Accoltellatevi! No! In game! In game! In game chiaramente signori! le rissa! Attenzione! Giallo! Angela! Sono in musicale! Cartellino giallo per lui. Un po' tratenuta! Attenzione! Attenzione! Rissa! comunque sempre in inghilterra e si bastonano ragazzi strano ecco mancamento per lo zano io questo non riesco mai a capirlo cazzarola un fallo di reazione come fa a essere giallo c'è mani addosso è rosso e la chiudiamo la punto e dopo scattano sempre questa rissa munisci dieci di loro cosa cambia e dai rossa 1 non fanno più nessuno si stanno accoppiando in sta partita turchia portogallo quella volta al mondiale per il passaggio al turno tornando così meno attenzione lo dico mancava la serie ecco lì subito ma il maestro ma il ruo e dire calma a tutti quanti sempre solita pubblicità giustamente natale domani è giustamente vengono super offerta e strano darvi di roma cartellini no nienta me garis sono mi era un po incazzata l'arbitro chiaramente pa all'arbitro tesi la presa l'ha ucciso mamma mia sudamerica mega ris anche la non è che scherzano veramente secondo me post in cui si bastonano di più sono le partite sudamericane madonna che fallaccio è sempre sempre quella partita è sempre turchia portogallo no no portogallo è sicuro ma irlanda del nord o irlanda perché c'è testa a testa possiamo vedere la testata immaginale con materazzi dai almeno ripigliamo un po la la mano quella è una vera testata madonna mia città come finita la carriera una carriera storica con una testata materazzi grande materazzi che ha sacrificato la sua la sua incolumità pur di farci vincere il mondiale madonna è morta questo perù contro sempre sudamerica non lo so sicuramente si stanno bastonando sì perù colombia tipo madonna che intrataccia che medel sì madonna rosso torniamo in premier league e si porta via la palla io questo e si portano via la palla è la cosa che io odio di più ragazzi cioè marto quando si portano via la palla madonna mia dovrebbero sparargli qualcuno dalla tribuna no nel senso cioè non letteralmente odio gabby gol questo ma secondo me dovrebbero dargli automaticamente giallo perché non è accettabile che portano via la palla in quella maniera tanto risa se si mania addosso mania addosso mania addosso si 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 madonna che intrataccia se lo becca bene ma non è una mia strano che è arrivato sargio ramos sarà stato nel periodo in cui ha rotto vai ecco se quello di barella famoso non ricordo vabbè vabbè che scandaloso questo però bene ma rischiate di fare il volo alvo è barcellona è spagnolo può essere no si forse fallo sul portiere ma il maglio un po' più differenti no eh cristo santo mamma mia e di solito si accade molto peggio mamma mia vabbè ragazzi vi saluto vi ringrazio per aver visto questo video insieme a me lasciate un like un commento fatemi il regalo di natale cioè iscrivetevi tutti quante e domani che è natale ho già 50 iscritti e quindi voi sopravvivete la notte altrimenti come sempre vi picchio con il telecomando quindi vi ricordo di lasciare un like iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e niente pingu come sempre posso soltanto dire che non so quando non so come non so perché l'importante è dire pinguale ciao e buona vigilia e buon Natale a tutti quanti piccolo spoiler non perdetevi il video di Natale di domani che uscirà domani alle due se riesco non lo so che registrerò proprio domani mattina quindi non sarò ben messo quindi lascia un like in più appunto perché registro il giorno di Natale mamma mia ciao